Ciao a tutti, che dire grazie, grazie perché siamo arrivati a mille, siamo arrivati a mille iscritti, ho fatto un investimento ve l'avevo detto che avrei speso questi 10.000 dollari per farmi la maglietta personalizzata comunque veramente grazie perché ho aperto il canale a gennaio, non pensavo ma forse neanche di arrivare a mille o comunque non avevo un'idea precisa, ve l'ho già detto, io ho iniziato così solo perché cavalco la mia passione oltre a tenere per me quello che è il mio bagaglio di esperienza, di competenze che ho acquisito negli anni con la passione e con anche il lavoro ho deciso di iniziare a fare i video, non per fare i soldi ma perché potevo condividere con qualcuno, potevo aiutare delle persone in maniera totalmente gratuita e lo sapete, tanti di voi per fortuna sono riuscito ad aiutarli nell'installazione di Season Off, nella costruzione dei NAS, insomma un po' tutto quello che ho trattato finora e mi fa molto piacere vedere che comunque gli iscritti sono arrivati, vuol dire che c'è qualcuno che ha trovato interessante quello che faccio ero in ferie, ero al mare dove tra l'altro ho fatto la recensione del mobile da campeggio anche se avevo dietro solo il cellulare e ero al mare, vedevo che salivano 900, 940, 960, ho detto arca miseria, allora ci arriviamo non è nulla perché mille e niente nel mondo YouTube, però per chi lo fa come me, così per passione, tanto per avere una piccola soddisfazione è già qualcosa, poi da mille iscritti per la società YouTube diventi ufficialmente uno YouTuber perché in teoria iniziano a pagarti, ma ragazzi sono centesimi veramente voi mi aiutate iscrivendovi, mi aiutate con le visualizzazioni, mi aiutate personalmente quando mi ringraziate per quello che faccio e questo per me conta più di qualsiasi cosa quindi ancora grazie, io continuerò per la mia strada, non cambierà assolutamente niente continuo a comprare le cose che mi servono e faccio le recensioni quando trovo qualcosa che diventa interessante spiegarne il funzionamento, l'installazione faccio i tutorial e io vado avanti così allora, visto che il main theme, il tema principale del canale finora sono stati i son-off non il tema principale, ma quello che comunque ha avuto più riscontro dove mi avete fatto più domande, dove ho avuto più contatti in privato tra l'altro mi sono dovuto attrezzare di un Galaxy Note col pennino perché ormai rispondo a tantissime email dove mi mandate foto di relai, schemi, eccetera allora io, mentre sono in giro con la penna, riesco a farvi le modifiche alle foto a rispondervi e a vedere di trovare la quadra della situazione quindi, dicevamo, visto che il son-off è stato quello che finora per la maggiore ha generato un numero di iscritti, probabilmente di visualizzazioni per ringraziarvi, è solo un pensierino, ma per ringraziarvi ve ne regalo uno, un son-off mini l'ho comprato io, non è che mi è stato mandato da nessuno come facciamo per assegnarlo? guarda, a te che guardi ti dico, semplicissimo apri Instagram vai qua nella ricerca cerchi il mio profilo che si chiama Massi Dattoli semplicemente come il canale quando l'hai trovato mi segui perché ragazzi, visto che non vi costa niente ho bisogno di crescere anche su Instagram dove metto le anteprime dei tutorial che vado a realizzare quindi vi torna anche utile una volta che siete iscritti mi mandate un messaggio privato e mi scrivete ciao Massi scrivo per il son-off o mi insultate, fate quello che volete e me lo inviate perché vi dovete iscrivere? perché io pubblico queste video adesso che è circa l'8 settembre diciamo, vi do il tempo di vedere il video di iscrivervi e di mandarmi i messaggi tra più o meno una settimana non so bene il giorno io prenderò tutti i vostri messaggi e in base a come mi sono stati inviati attribuirò un numero che sarà in sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6 quindi Mario Rossi che mi ha scritto per primo sarà numero 1 dopodiché vediamo in quanti siete se siete meno di 90 a scrivermi io farò una diretta su Instagram con un'estrazione col tombolone con le palline quello che gira così non ci sono problemi il numero che esce io poi pubblico la lista di chi mi ha mandato i messaggi il numero che esce è quello che si aggiudica se non femmini lo prendo in pacchetto te lo mando a casa non ti costa niente è un pensierino ma per me è un modo per ringraziarvi se per caso sarete più di 90 vediamo magari no però se succederà studieremo in un altro modo il sistema sarà sempre lo stesso messaggio e numero attribuito e lo estrarremo a sorte mi studierò un sistema computerizzato o magari con i bigliettini vediamo ok quindi questo video solo per ringraziarvi solo per ricordarvi che comunque non cambia niente ma per me è un piccolo traguardo continuate a seguirmi continuate a farmi domande senza problemi non vi sentite magari titubanti nel chiedere voi scrivetemi che tanto io ho solo piacere nel rispondervi e nell'aiutarvi vi ringrazio ancora andiamo avanti con i video e alla prossima ciao da Massidattoli